Facciamo una piccola reaction A forza di guardare le live di Dario, ieri mi è scappato un D e sono di Torino Non ho visto Sì sì, lo so che stava leggendo un messaggio, stavo pensando ad un'altra cosa ragazzi Stava leggendo un commento in chat, evidente, non è che c'è bisogno della spiegazione Però è già tanto se ha letto un commento su di me Allora Fossa, sono sicuro, con prove provate, che Karim segua le mie live E ti dirò di più, non segue solo le mie live, segue anche le mie live di GTA RP Ne ho come un sentore Ma tralascerei Allora diciamo che c'è, vi dico solo questo e poi mi taccio Diciamo che c'è una piccola parte del mio pubblico Che sa di più Delle altre parti di pubblico Ecco, la butto lì Dario, quando finirà questa faida? Allora ragazzi, ora lo ridico per l'ultima volta e poi basta Tra me e Karim, o Karim, non c'è nessuna faida Semplicemente lui è così C'ha questo carattere qui Se io sono folle Un po' schizofrenico Rincoglionito, smemorato, eccetera Karim ha altri pregi slash difetti Pacato È pacato, è molto riservato, è molto timido E soprattutto è una persona che Risponde saltuariamente Se non mai E quindi Dal vivo comunque No, dal vivo no Però c'è da dire che Purtroppo Uno come me Che è molto carico Facciamo questo Facciamo quello Quando si va a incontrare Con il carattere di Karim Che è molto invece Più chiuso Riservato, eccetera Ovviamente c'è il ghosting Non ci può essere altro Quindi non c'è Ghosting da parte di chi? Il suo Tra l'altro io ho mandato anche un vocale Che ero preoccupatissimo Ho detto Karim ma cosa c'è? Ma cosa fa? Ma proprio Come si può dire? Disperato Disperato, svilito Ho detto Ma se hai fatto qualcosa Parliamone Ghosting Ma non ha nemmeno riprodotto il vocale Eh magari non c'ha più il vocale È fatto così No, ce l'ha Ma come no? È solo che è fatto così Poi lui è sempre zoomer Quindi Esce un programma Nuovo rispetto a Telegram Utilizziamo velo Ma lo utilizzano tre persone Karim Utilizziamo quello E quindi è difficile Perché No, Whatsapp è da vecchi L'altro è da vecchi Insomma è difficile C'è un carattere particolare Però io e lui Non abbiamo mai discusso Poi non potrei mai provare Eh Del risentimento Nei confronti di Karim Perché comunque Io Sono partito Insieme a lui Praticamente Anzi lui è partito prima di me Molto prima di me Qualche anno prima di me E quindi Siamo cresciuti insieme Sì su YouTube Che nella vita Ovviamente non ci siamo frequentati tantissimo Perché stiamo in due città Molto distanti tra di loro Ma non posso provare Del risentimento O anche del Della cattiveria Per un po' di ghosting Nei confronti una persona Che comunque Mi ha caratterizzato abbastanza Non solo il lavoro Ma anche la vita personale Nonostante ripeto Non ci sia Non ci sia stato un rapporto Assiduo Però abbia ragioni Basta Nient'altro Quindi non c'è nessuna faida Io e lui Non abbiamo mai discusso Ovviamente è diventato meme Perché vi fa tanto ride Ci ridiamo anche noi Poi ripeto Io provo risentimento E Magari lì Per lì Mi incazzo Con le persone Eccetera Ma dopo un giorno Mi passa tutto Ve lo può confermare Persone che hanno subito Incazzature mie Per cose che hanno combinato loro Eppure Poi passa Passa tutto E poi devo dire una cosa Karim Mi è rimasto Sempre vicino Nonostante io avessi amicizie A lui poco gradite E' chiaro che Tra lui e Dally Mello Ovviamente non corra buon sangue Io sono amico Sia di Karim Che Dally E Karim Questa cosa L'ha sempre rispettata E non ha mai avuto problemi Da quel punto di vista È stato molto maturo Molti non agiscono così Quindi Questa cosa L'ho sempre notata Io sono sempre stato Un po' il ponte Tra tutti Perché io Vi sono sempre trovato Bene con tutti Fate conto Vi racconto sta roba Che non sa credo nessuno Una volta Incontrai una fiera Tanti anni fa I Pantellas E loro mi fecero Un sacco di complimenti Perché bene o male Un po' tutti mi seguono Silenziosamente Non assiduamente Magari Ma qualcuno Sicuramente mi conosce Mi fecero un sacco di complimenti E mi trovai benissimo Anche con loro A cazzeggiare A chiacchierare Nonostante Mi fossi esposto Più volte pubblicamente Sui loro contenuti È stato molto figo Soprattutto Daniele Daniel Con il cociuffone Mi pare Non ricordo Mi pare che era lui Sì Daniel Credo E Daniel Era quello che Partecipava più Rideva di più È stato un bel incontro Nonostante Ripeto Mi sia esposto Più volte Sui loro contenuti Quindi sono riusciti A scindere Il mio parere personale Su dei contenuti Dalla persona A Jacopo Scusate ragazzi Jacopo Quello col ciuffone Scusate ragazzi Scusate ragazzi